Buonasera, sono Brian Welch e sono al Torino Film Festival con il film nella sezione Festa Mobile Beats. Beats è la storia di due giovani, due amici, Jono e Spanner, che nel 1994 decidono di partecipare a un rave techno party che a quel punto è illegale perché il governo aveva promulgato una legge che si chiamava Criminal Justice and Public Court Bill che sostanzialmente proibiva gli assembramenti di persone per appunto ascoltare musica. È stato sicuramente sorprendente e una grande emozione il fatto di trovarmi di fronte a un pubblico così vasto, è davvero stato un onore per me ricevere il premio Hamilton. Ciao a tutti amici del Torino Film Festival, ho davvero vissuto un'esperienza incredibile in questo festival che è di grande ispirazione proprio per l'amore per il cinema che dimostra non soltanto nella selezione ma anche per il pubblico quello che lo frequenta e spero di tornare nei prossimi anni. Penso che è stata una bella esperienza e vorrei voler tornare ancora prossimo anno, grazie.